Sanità e debiti, sanità e lungaggini. Come se ne esce? In Abruzzo il dibattito è aperto da mesi, da quando l'entità dei conti in rosso è stata resa nota a 168 milioni di euro. Per l'opposizione in regione però si è già arrivati a 200, tanto che i consiglieri di centrosinistra ritengono ormai prossimo il commissariamento. Il centrodestra, tutt'altra visione, ha sempre puntato il dito sui predecessori, rei a dire degli esponenti al momento al governo della regione di non aver inverdito il parco macchinari degli ospedali e quindi di aver compromesso lo slittamento delle liste d'attesa. Ma veleni politici a parte, il faro deve rimanere acceso sugli utenti che all'esterno dell'ospedale di Pescara nel mini sondaggio realizzato da Teleregione hanno confermato le difficoltà per le lunghe attese ma sottolineato anche l'alta professionalità degli operatori del sistema sanitario pubblico. Per Luciano D'Amico, ex candidato alla presidenza della regione Abruzzo, occorre ridisegnare completamente la sanità partendo da una ASL unica. Io credo che l'Abruzzo non abbia più bisogno di avere ad esempio quattro ASL, credo che invece abbia bisogno di avere un ospedale di secondo livello, credo che abbia bisogno di una rete di medicina territoriale più ramificata e più accogliente nei confronti di tutte le abruzzese e gli abruzzesi. Credo che abbia bisogno di specializzare per vocazione gli altri presidi. È necessario un grande lavoro ma non abbiamo nessuna possibilità di scelta o avviamo questo grande ripensamento, questa grande riprogettazione o altrimenti gli abruzzesi riceveranno sempre meno cure e questo non è assolutamente giusto nei loro confronti e quindi l'impegno sarà ancora più rilevante. Grazie a tutti.